Il Monaco, di Matthew Gregory Lewis, letto da La Musi Favolista, disponibile su Spreaker, YouTube, Spotify e tutte le maggiori piattaforme podcast. Attenzione, sconsigliamo l'ascolto ad un pubblico particolarmente sensibile. Buon ascolto! Capitolo VI Passò il primo impeto della passione. La lussuria di Ambrosio era placata. Il piacere fuggì e lontane usurpò il posto in petto al Monaco. Attonito e atterrito dalla propria debolezza, Ambrosio si ritrasse dall'abbraccio di Matilda. L'immagine della sua fellonia gli si presentò vivida alla mente. Rifletté sulla scena che si era appena svolta e tremò alle conseguenze di una scoperta. Guardò al futuro con orrore. Il suo cuore avvilito divenne la dimora di sazietà e disgusto. Evitò gli occhi della sua compagna di fragilità. Regnò un silenzio malinconico, durante il quale parvero immersi entrambi in sgradevoli riflessioni. Matilda fu la prima a rompere il silenzio. Gli prese dolcemente la mano e se la recò alle labbra ardenti. Ambrosio, mormorò con voce tenera e tremante. Il monaco trasalia quel suono. Girò gli occhi su quelli di Matilda, che erano pieni di lacrime. Le guance della donna erano coperte di rossore e il suo sguardo supplice sembrava voler stimolare la sua compassione. «Donna pericolosa!» esclamò il superiore. «In quale abisso di miseria non mi hai gettato? Se si scopre il tuo sesso, dovrò pagare il piacere di pochi istanti con il mio onore, anzi, con la mia vita! Stolto che fui ad affidarmi per intero alle tue lusinghe! Che cosa possiamo fare ora? Come riparare il mio torto? Quale espiazione può lucrarmi la remissione del mio crimine? Sciagurata! Hai distrutto la mia pace per sempre!» «Rivolgi a me questi rimproveri, Ambrosio! A me, che per te ho sacrificato i piaceri del mondo, i lussi della ricchezza, la fragilità del mio sesso, amici, beni e fama! Che cosa hai perso tu che non abbia perso io stessa? Non ho condiviso la colpa con te! Non hai condiviso il mio piacere!» «Colpa, ho detto! In che cosa siamo colpevoli se non nell'opinione di un mondo che sa mal giudicare? Lascia che il mondo le ignori e le nostre gioie diventeranno immacolate e divine! Innaturali erano i tuoi voti di castità! L'uomo non è stato creato per essere celibe e se l'amore fosse un delitto, Dio non l'avrebbe mai reso così dolce, così irresistibile! Bandisci dunque queste nuvole dal tuo volto, o mio Ambrosio! Abbandonati liberamente a questi piaceri senza i quali la vita è un dono ignobile! Cessa di rimproverarmi per averti insegnato che cosa sia la beatitudine e prova trasporti uguali a quelli della donna che ti adora!» Mentre così parlava, gli occhi le si riempirono di un delizioso languore. Anelante, gli allacciò voluttuosamente le braccia attorno al collo, lo attirò contro di sé e incollò le labbra alle sue. Ambrosio tornò ad accendersi di un desiderio furioso. Il dado era gettato, i voti già infranti, il crimine già era stato commesso e perché doveva egli ora trattenersi dal goderne la ricompensa. Si strinse Matilda al petto con rinnovato ardore. Non oppresso più a lungo dalla vergogna, diede libero sfogo ai suoi incontrollati appetiti, mentre la bella Invereconda metteva in pratica tutte quelle invenzioni della lussuria, quelle raffinatezze dell'arte e del piacere che potevano accrescere il gioioso possesso della sua persona e rendere i trasporti dell'amante ancora più acuti. Ambrosio si abbandonò tumultuosamente a gioie fino ad allora sconosciute. Rapida fuggì la notte e il mattino si imporporò vedendolo ancora stretto tra le braccia di Matilda. Inebriato dal piacere, il monaco si levò dal voluttuoso giaciglio della sirena. Non pensò più a lungo con vergogna alla propria incontinenza, né paventava la vendetta del cielo offeso. Il suo unico timore era che la morte lo spogliasse di gioie, l'appetito per le quali era stato anche più acuito da un lungo digiuno. Matilda era ancora sotto l'effetto del veleno e il voluttuoso monaco tremò meno per la vita della sua salvatrice che non per quella della sua concubina. Orbato di Matilda, non avrebbe trovato facilmente un'altra amante con la quale abbandonarsi alle proprie passioni con tanta pienezza e senza timori. La esortò quindi sinceramente a usare i mezzi di salvezza che aveva detto di possedere. «Sì», rispose Matilda. «Da che mi hai fatto sentire che la vita è apprezzabile, conserverò la mia a qualunque costo. Nessun pericolo mi spaventerà. Affronterò con vigore le conseguenze della mia azione, né tremerò agli orrori che esse presentano. Stimerò il mio sacrificio appena appena degno di acquistare il possesso della tua persona e ricordati che un momento trascorso tra le tue braccia e in questo mondo ripaga più che a sufficienza un'era di duri castighi nel prossimo. Ma prima che io compia questo passo, ha solenne giuramento che mai cercherai di scoprire con quali mezzi ho salvato la mia vita». Ambrosio lo fece, nel modo più impegnativo. «Ti ringrazio, amato mio. È una precauzione necessaria, perché, che te ne renda conto o no, sei dominato da pregiudizi volgari. La cosa a cui mi devo dedicare questa notte potrebbe colpirti per la sua singolarità e diminuire l'opinione che hai di me. Dimmi, possiedi la chiave della porticina del lato ovest del giardino?» «La porta che dà sul cimitero che dividiamo con il convento di Santa Chiara? Non ce l'ho, ma posso procurarmela facilmente». «Devi fare soltanto questo. Fammi entrare nel cimitero a mezzanotte. Fa la guardia, mentre io discendo nei sotterranei di Santa Chiara per impedire che occhi indiscreti osservino le mie azioni. Lasciami da sola per un'ora, e quella vita che è consacrata al tuo piacere sarà salva. Per non creare sospetti, non venirmi a trovare durante il giorno. Ricordati della chiave e che ti aspetto prima delle dodici. Silenzio. Sento avvicinarsi un rumore di passi. Lasciami, fingerò di dormire». Il frate Ubidi è uscì dalla cella. Come apriva la porta, comparve padre Pablos. «Vengo», disse quest'ultimo, «per avere nuove della salute del mio giovane paziente». «Silenzio», rispose Ambrosio mettendosi il dito sulle labbra. «Parlate sotto voce. Vengo appunto dal suo capezzale. È caduto in un profondo sopore che senza dubbio gli farà bene. Non disturbatelo per ora, che desidera riposare». Padre Pablo subbedì e, udendo suonare la campana, accompagnò il superiore al mattutino. Entrando nella cappella, Ambrosio si sentì imbarazzato. Era nuovo al senso di colpa e si immaginò che tutti potessero leggergli in volto le transazioni della notte precedente. Cercò di pregare. Il suo petto non ardeva più di devozione. Insensibilmente i suoi pensieri ritornavano alle segrete grazie di Matilda. Ma a quanto difettava in purezza di cuore, supplì con l'aspetto esteriore della santità. Per meglio ammantare il suo fallo, raddoppiò le virtuose e mai apparì più devoto al cielo di quando ebbe distrutto i suoi impegni con esso. All'incontinenza e allo spergiuro aggiunse in tal modo, senza volerlo, l'ipocrisia. Era caduto nel primo errore, cedendo a una tentazione quasi irresistibile. Ma adesso si era reso responsabile di una colpa volontaria sforzandosi di celare quella cui altri lo aveva condotto. Terminata la funzione, Ambrosio si ritirò in cella. I piaceri che aveva gustato per la prima volta gli rimanevano ancora impressi vividi nell'animo. Il suo animo sconvolto gli presentò un caos di rimorso, volutà, inquietudine e paura. Rimpianse quella tranquillità dello spirito, quella sicurezza della virtù che fino a quel momento aveva avuto in sorte. Si era abbandonato ad eccessi al cui solo pensiero, ventiquattro ore prima, era rifugito con orrore. Tremò riflettendo che una piccola indiscrezione da parte sua o da parte di Matilda avrebbe rovesciato quell'edificio di riputazione che aveva eretto in trenta anni di fatiche e che lo avrebbe reso l'abominio di quelle persone di cui era ora l'idolo. Risolse comunque di continuare i rapporti con Matilda ed evocò in suo soccorso ogni argomento che potesse sorreggerlo nella sua decisione. Si chiese in che cosa consistesse, dopotutto, il proprio errore, una volta che le sregolatezze rimanessero all'oscuro e quali fossero le conseguenze di cui doveva temere. Attenendosi strettamente a ogni regola del suo ordine, tranne il voto di castità, non dubitava di poter seguitare a godere della stima degli uomini e anche della protezione del cielo. Confidava che gli sarebbe stata facilmente rimessa una deviazione tanto leggera e naturale, ma dimenticava che, avendo pronunciato tali voti, l'incontinenza, il più veniale degli errori per un laico, diveniva nella sua persona il più odioso dei crimini. Avendo preso una decisione riguardo alla sua condotta futura, si sentì la mente più tranquilla. Gettatosi nel suo letto, si sforzò, dormendo, di recuperare l'energia esaurita negli eccessi notturni. Si svegliò rinfrescato e impaziente di replicare le gioie già provate. Ubbidiente all'ordine di Matilda, non visitò la sua cella durante il giorno. Padre Pablo s'annunciò in refettorio che Rosario si era finalmente persuaso a seguire le sue prescrizioni, ma che la medicina non aveva prodotto il più pallido effetto e che era sua opinione che nessuna arte mortale avrebbe potuto strapparlo alla tomba. Il superiore si trovò d'accordo e finse di compiangere l'immatura fine di un giovane mostratosi tanto promettente. Giunse la notte. Ambrosio aveva avuto cura di procurarsi dal portiere la chiave della porticina che immetteva nel cimitero. Avutala, quando tutto il monastero era immerso nel silenzio, lasciò la sua cella e si affrettò a quella di Matilda. Matilda si era già alzata e vestita prima del suo arrivo. «Ti ho aspettato con impazienza», disse. «La mia vita dipende da questi attimi. Hai la chiave?» «Ce l'ho. Allora scendiamo subito in giardino. Non abbiamo tempo da perdere. Seguimi!» Dalla tavola prese un panierino coperto. Con quello in una mano e nell'altra la lampada che risplendeva poco prima sul focolare, si affrettò ad uscire di cella. Ambrosio la seguì. Entrambi stettero in profondo silenzio. Matilda, camminando a passi svelti ma guardinghi, attraversò il chiostro e giunse al lato ovest del giardino. Nei suoi occhi lampeggiava un fuoco sfrenato che impresse nel monaco timore e sgomento al tempo stesso. Un coraggio risoluto e disperato le accendeva il viso. Passò la lampada ad Ambrosio. Poi, presa da lui la chiave, aprì l'usciolo ed entrò nel cimitero. Era un riquadro ampio e spazioso, dove crescevano tassi sotto una tettoia. Una metà apparteneva all'abbazia, l'altra metà al convento di Santa Chiara. Una cancellata di ferro, con la porticina lasciata per lo più aperta, segnava la divisione tra le due proprietà. Là si diresse Matilda. Aprì il cancelletto e cercò la porta che menava alle volte sotterranee, dove riposavano i corpi putrefatti delle devote di Santa Chiara. La notte era perfettamente buia. Non si vedeva né la luna né le stelle. Per fortuna non spirava un alito di vento e il frate poteva portare la lampada senza timore che si spegnesse. Aiutati da quei raggi, trovarono ben presto la porta del sepolcro. Era annidiata in un profondo sguancio del muro e semi nascosta da spesse ghirlande di edera. Tre rozzi gradini di pietra, tagliati a mano, vi ci conducevano e Matilda stava per discendere quando si ritrasse d'improvviso. «C'è gente nei sotterranei!» sussurrò al monaco. «Nasconditi finché non sono passati!» Matilda si rifugiò dietro un'arca alta e stupenda, eretta in onore della fondatrice del convento. Ambrosio seguì il suo esempio, nascondendo accuratamente la lampada per timore che la luce tradisse la loro presenza. Erano passati solo pochi minuti quando la porta che conduceva ai sotterranei fu aperta. Raggi di luce salirono su per la scala, permettendo ai due spettatori nascosti di notare due donne vestite di abiti religiosi che sembravano impegnate in una seria conversazione. Il frate non ebbe difficoltà a riconoscere la superiora di Santa Chiara nella prima e una delle monache più anziane nella sua compagna. «Tutto è preparato!» disse la superiora. «Il suo destino sarà deciso domani. Non le varranno né lacrime né sospiri, no! Da venticinque anni che sono superiora di questo convento non ho mai visto commercio più oltraggioso!» «La sua volontà troverà grande opposizione. Deve aspettarselo!» rispose la compagna con accento più mite. «Agnes ha molte amicizie in convento. Madre Sant'Ursula in particolare sposerà la sua causa ardentemente. In verità Agnes merita di avere amici e mi augurerei di poter persuaderla ad aver considerazione per la sua giovinezza e il suo stato particolare. Sembra che si renda conto del suo errore. L'eccesso del suo cordoglio mostra la sua costrizione e sono convinta che le sue lagrime sgorghino più per il rimorso che per la paura del castigo. Reverenda madre, non potrebbe lasciarsi persuadere a moderare la severità della sentenza. Solo che si degnasse di chiudere gli occhi su questa prima trasgressione mi offrirei come pegno della sua futura condotta. Chiudere gli occhi dite? Madre Camilla, mi sorprendete! Come? Dopo che mi ha disonorata in presenza dell'idolo di Madrid, proprio in presenza dell'uomo che più desideravo impressionare con il rigore della mia disciplina? Che persona disprezzabile devo essere apparsa al reverendo superiore? No, madre, no! Non potrò mai perdonare l'insulto. Non potrei convincere meglio Ambrosio dell'abominio che nutro per tali crimini che punendo quello di Agnes con tutto il rigore consentito dalle nostre severissime leggi. Desistete dalle vostre suppliche. Saranno vane. La mia risoluzione è presa. Domani Agnes sarà orribilmente esempio della mia giustizia e del mio rancore. Parve che madre Camilla non rinunciasse ai propri argomenti, ma a questo punto le due monache erano abbastanza lontane perché i loro discorsi fossero ancora udibili. La superiore aprì la porta che comunicava con la cappella di Santa Chiara ed essendo entrata con la compagna se la richiuse alle spalle. Matilda chiese chi fosse questa Agnes con cui la superiore era tanto adirata e quale connessione poteva avere con Ambrosio. Egli le riferì la storia, soggiungendo che da allora le proprie idee, avendo subito una completa rivoluzione, provava ora grande compassione per l'infelice monaca. «Intendo», disse, «chiedere un'udienza domani alla superiore e usare ogni mezzo per far mitigare la sentenza». «Attento a quel che fai», lo interruppe Matilda. «Il tuo improvviso cambiamento di sentimenti potrebbe naturalmente suscitare sorpresa e dare origine a sospetti che è soprattutto nel nostro interesse evitare. Raddoppia anzi la tua austerità esteriore e per meglio nasconderle tue, tuona minacce contro le mancanze altrui. Abbandona la monaca al suo destino. La tua interferenza potrebbe essere pericolosa e la sua imprudenza merita una punizione. Non è degno di godere le gioie dell'amore chi non ha abbastanza ingegno da tenerle nascoste, ma discutendo su un argomento così futile sto perdendo attimi preziosi». Così dicendo, mosse verso il sepolcro reggendo la lampada in una mano e il panierino nell'altra. sfiorò l'uscio che girò lentamente su cardini stridenti e un'angusta scaletta contorta di marmo nero si presentò ai suoi occhi. Scese. Ambrosio rimase di sopra, stette a guardare i tenui raggi della lampada recedere giù per le scale. Infine disparvero e si trovò nel buio più assoluto. Abbandonato a sé, Ambrosio si mise a riflettere, non senza sorpresa, sul cambiamento intervenuto nel carattere e nei sentimenti di Matilda. Solo pochi giorni erano trascorsi da quando appariva la più dolce e mite creatura del suo sesso, devota alla volontà di lui e che lo guardava come si guarda un essere superiore. Ora le sue maniere e il piglio del suo discorso avevano assunto una specie di coraggiosa virilità mal calcolata a rendergliela gradevole. Matilda non parlava più per insinuarsi, ma per comandare. Ambrosio si scoprì incapace di tenerle testa nelle argomentazioni e si vide obbligato contro voglia a confessare la superiorità dei giudizi di lei. Si persuadeva di più ad ogni momento delle mirabili facoltà dell'ingegno di lei, ma quanto Matilda acquistò nella stima dell'uomo perse di interesse nell'affetto dell'amante. Ambrosio rimpiangeva rosario, appassionato, dolce, sottomesso. Deplorò che Matilda preferisse le virtù dell'altro sesso a quelle del proprio e ripensando alle espressioni che aveva usato verso la monaca non poté trattenersi dal biasimarle come crudeli e poco femminili. La compassione è un sentimento così naturale, così appropriato al carattere femminile, che il possederla per una donna è appena appena un merito, ma la mancanza una lacuna grave. Ambrosio non poteva facilmente perdonare alla sua amante l'assenza di quella amabile qualità. Tuttavia, pur biasimando la sua insensibilità, percepì la verità delle osservazioni e, sebbene provasse sincera pietà per Agnes, si risolse ad abbandonare l'idea di intervenire in suo aiuto. Era già trascorsa quasi mezz'ora da quando Matilda era discesa nel sotterraneo e non era ancora tornata. La curiosità di Ambrosio si risvegliò. Si avvicinò alla scala, rimase in ascolto. Tutto era silenzio, se nonché di quando in quando gli giungeva il suono della voce di Matilda, mentre serpeggiava per i passaggi sotterranei riecheggiata dalle volte del sepolcro. Era troppo lontana perché ne distinguesse le parole e, prima ancora che gli giungessero all'orecchio, si spegnevano in un mormorio. Bramando far luce su questo mistero, decise di disubbedire alle ingiunzioni di Matilda e di seguirla nella caverna. mosse verso la scala. Era già sceso di qualche gradino quando il coraggio gli venne meno. Si risovvenne delle minacce di Matilda in caso che egli avesse violato i suoi ordini e il petto gli si riempì di uno sgomento segreto e inconcepibile. Tornò a salire i gradini, riprese la posizione di prima e aspettò con impazienza la conclusione dell'avventura. Improvvisamente percepì una scossa violenta. Il terremoto scrollò il suolo. Le colonne che sorreggevano il tetto sopra la sua testa tremarono così fortemente da minacciare a ogni momento di farglielo cadere sulla testa e nello stesso attimo Ambrosio udì un alto e tremendo scoppio di tuono. Anche questo passò e mentre teneva gli occhi fissi sulle scale vide una colonna splendente di luce guizzare lungo le volte. Durò solo un istante. Non appena disparve tutto tornò tranquillo e silenzioso. Ancora una volta Ambrosio era circondato da un'oscurità profonda e il silenzio della notte era interrotto solo dal frullio di un pipistrello che gli volò accanto con un saettio molle. Lo stupore di Ambrosio si accresceva a ogni istante. Passò un'altra ora al termine della quale apparve la stessa luce che si perse con altrettanta rapidità. Era accompagnata da una musica dolce ma solenne che mentre serpeggiava per i sotterranei ispirò al monaco un misto di delizia e di terrore. L'eco se n'era spenta da non molto quando Ambrosio udì il passo di Matilda per le scale. La donna era risalita dal sotterraneo e sue belle fattezze erano animate dalla gioia più vivida. Hai visto qualcosa? Chiese. Due volte ho visto una colonna di luce lampeggiare su per le scale. Nient'altro? Nient'altro. Sta per spuntare il giorno. Ritiriamoci in convento prima che la luce ci tradisca. Si allontanò dal cimitero con passo leggero e ritirata in cella accompagnata dal monaco incuriosito chiuse la porta e depose lampada e paniere. Sono riuscita! esclamò gettandogli si al petto. Riuscita al di là delle mie più folli speranze! Vivrò Ambrosio! Vivrò per te! Ho intrapreso un passo che mi faceva rabbrividire e che mi si dimostra ora fonte di inesprimibile gioia. Oh, se solo osassi comunicartele! Oh, se mi fosse concesso di dividere con te i miei poteri e innalzarti sopra il livello del tuo sesso, così come un solo audace gesto ha innalzato me sopra il mio! E che cosa te lo impedisce, Matilda? Interruppe il frate. Perché fai un segreto della tua avventura nel sotterraneo? Mi ritieni indegno della tua confidenza? Matilda, dovrò mettere in dubbio la sincerità del tuo affetto finché avrai gioia che mi si impedisce di condividere. Mi rimproveri ingiustamente! Essere costretta a celarti la mia felicità mi dà un genuino dolore. Ma non è colpa mia. La cagione non è in me, ma in te stesso, mio Ambrosio. Hai ancora troppo del monaco. Il tuo spirito è schiavo, irretito dai pregiudizi della tua educazione, e la superstizione potrebbe farti rabbrividire all'idea di quanto l'esperienza mi ha insegnato ad apprezzare. Per adesso non sei maturo per ricevere un segreto così importante. Ma la robustezza del tuo ingegno e la curiosità che con gioia vedo brillarti negli occhi mi inducono a sperare che un giorno meriterai la mia fiducia. Fino a che quel momento non sarà giunto, frena la tua impazienza. Il frate contraccambiò l'abbraccio che gli aveva messo il fuoco nelle vene. Gli eccessi lussuriosi e sfrenati della notte precedente furono rinnovati, e i due amanti non si separarono se non quando la campana li chiamò al mattutino. I medesimi piaceri si ripeterono sovente. I monaci accolsero con giubilo l'inaspettata guarigione del finto rosario e nessuno di loro sospettò il suo vero sesso. Il superiore possedette la sua amante con tranquillità d'animo, ma la donna si accorse ben presto di aver saziato l'amante con la sconfinata prodigalità delle sue carezze. Si era abituato a quelle bellezze ed esse avevano cessato di eccitare i desideri che gli avevano dapprima ispirato. Superato il delirio della passione, Ambrosio ebbe agio di osservare ogni minimo difetto. Dove non ne trovava nessuno, la sazietà gli faceva immaginare. Il monaco era saturo della pienezza del piacere. Era appena trascorsa una settimana e già si stancava dell'amante. La sua costituzione sanguigna lo spingeva a cercare tra le braccia di Matilda il soddisfacimento della sua lascivia, ma trascorso il momento della passione lasciava Matilda con disgusto e la sua indole incostante lo faceva sospirare con impazienza nel desiderio di varietà. Il possesso che stucca l'uomo accresce l'affetto della donna. Col passar di ogni giorno Matilda si attaccava sempre più al frate. Da che egli aveva ottenuto i suoi favori, le divenne più caro che mai e gli era grata per i piaceri che avevano condiviso. Per sua disgrazia, via via che la sua passione si faceva più ardente, quella di Ambrosio si raffreddava. Fin gli stessi segni dell'affetto di lei gli ripugnavano e l'eccesso della passione non servì che ad estinguere una fiamma che già gli intiepidiva in petto. Matilda non poteva fare a meno di notare che la sua compagnia sembrava di venirgli ogni giorno meno gradita. Quando parlava lei era disattento. Le doti musicali che Matilda possedeva alla perfezione avevano perso il potere di allietarlo o, se Ambrosio si degnava di lodarle, i suoi complimenti erano freddi e forzati. Non la contemplava più con affetto né plaudiva i suoi sentimenti con la parzialità dell'amante. Di questo Matilda ben si accorse e raddoppiò gli sforzi per avvivare i sentimenti che egli aveva avuto un tempo. Non poteva altro che fallire, dal momento che Ambrosio reputava fastidiose le cure che Matilda si dava per piacergli ed era disgustato da quegli stessi mezzi cui la donna ricorreva per richiamare a sé l'incostante. Il loro illecito commercio continuò, ma era chiaro che non l'amore lo sospingeva tra le braccia della donna, bensì i morsi dell'appetito bruto. La sua costituzione faceva sì che la donna gli fosse necessaria e Matilda era l'unica con cui potesse abbandonarsi in segretezza ai propri trasporti. Nonostante la bellezza di lei, Ambrosio guardava ogni altra donna con desiderio maggiore, ma temendo che la sua falsità attrapelasse, confinò in petto le proprie inclinazioni. La timidezza non entrava affatto nella sua natura, ma l'educazione impartita gli aveva stampato nell'anima la paura e con tanta forza da divenire parte del suo carattere. Se avesse passato la giovinezza nel mondo avrebbe dimostrato di possedere molte qualità brillanti e mascoline. Era per natura intraprendente, risoluto, baldanzoso, aveva l'animo di un guerriero e avrebbe potuto splendere con onore a capo di un esercito. La sua natura non mancava affatto di slanci generosi. L'infelice trovava sempre in lui un ascoltatore compassionevole. Le sue abilità erano vivide e splendenti, il suo ingegno vasto, solido, lineare. Con simili doti avrebbe potuto essere l'ornamento del suo paese. Che le possedesse ne aveva dato prove nella primissima infanzia e i genitori le avevano notate al loro primo spuntare con l'esultanza e l'ammirazione più appassionate. Disgraziatamente, ancora bambino, Ambrosio era stato orbato di quei genitori. Cadde nelle mani di un congiunto, il cui unico desiderio era di non sentirne parlare mai più. A tale scopo lo affidò alla custodia del suo amico, il precedente superiore dei cappuccini. Il priore, frate fino all'osso, usò tutti i mezzi a propria disposizione per persuadere il ragazzo che la felicità non esisteva al di fuori delle mura di un convento. Ebbe pieno successo. Essere ammesso e far parte dell'ordine di San Francesco divenne l'ambizione più alta di Ambrosio. I suoi istruttori repressero accuratamente quelle virtù che nella loro disinteressata magnificenza mal si attagliavano al chiostro. Invece di una larga benevolenza, Ambrosio adottò un settarismo egoistico in favore della propria istruzione. Gli si insegnò a considerare la compassione per gli errori altrui come un crimine dei più foschi. La nobile schiettezza del suo temperamento fu trasmutata nell'umiltà servile. E per poter demolire la sua indole naturale, i monaci atterrirono il suo spirito giovanile ponendogli davanti tutti gli orrori di cui li forniva la superstizione. Gli dipinsero i tormenti dei dannati coi colori più cupi, terribili e fantastici, e alla mancanza più leggera lo minacciavano di perdizione eterna. Non c'è da meravigliarsi se la sua immaginazione, soffermandosi costantemente su questi oggetti paurosi, dovesse finire col rendere il suo carattere titubante e apprensivo. C'è da aggiungere che la sua larga assenza dal mondo esterno e la sua totale mancanza di conoscenza con i comuni pericoli della vita lo inducevano a farsene un'idea molto più cupa della realtà. Mentre i frati si davano da fare a sradicare le sue virtù e a limitare i suoi sentimenti lasciarono che ogni difetto capitato gli insorte toccasse completa perfezione. Si tollerò che fosse orgoglioso, vano, ambizioso e arrogante. Geloso dei suoi pari, disprezzava ogni merito tranne i propri. Implacabile se offeso, era crudele nella vendetta. Pure, nonostante la sollecitudine impiegata per vertirle, le sue buone qualità naturali di quando in quando riuscivano a irrompere attraverso l'ombra cupa di cui erano state ammantate con tanta cura. In quelle circostanze la gara tra il suo carattere reale e quello acquisito riusciva inspiegabile e impressionante per chi era ignaro della sua indole originale. Pronunciava contro gli offensori sentenze durissime che un momento dopo la compassione induceva a mitigare. Intraprendeva le iniziative più coraggiose che presto abbandonava per il timore delle conseguenze. Il suo innato talento proiettava una luce vivida sugli argomenti più oscuri e quasi istantaneamente la superstizione glieli faceva riaffondare in un'oscurità anche più profonda di quelli cui erano appena stati strappati. I confratelli, considerandolo un essere superiore, non notavano queste contraddizioni nel comportamento del loro idolo. La sua ambizione era giustificata dai meriti riconosciutigli e il suo orgoglio non era considerato niente più che una giusta fiducia. Non vedeva mai né tantomeno frequentava il sesso opposto. Ignorava i piaceri che la donna aveva la facoltà di elargire. Per un certo tempo dieta frugale, veglie frequenti e rigorose penitenze repressero e raffreddarono il naturale calore della sua costituzione. Ma non appena gli si presentò l'occasione, non appena Ambrosio intravide le gioie alle quali era ancora estraneo, allora le barriere della religione furono troppo deboli per opporsi al torrente in piena dei suoi desideri. Tutti gli ostacoli cedettero davanti alla forza del suo temperamento, sanguigno e voluttuoso all'estremo. Fino ad allora le sue altre passioni erano rimaste sopite, ma bastava solo che si risvegliassero una volta per manifestarsi con una violenza grande e irresistibile. Ambrosio continuava a essere l'ammirazione di Madrid. L'entusiasmo suscitato dalla sua eloquenza sembrava crescersi anziché diminuire. Le donne, soprattutto, meno influenzate dalla devozione che dal suo nobile aspetto, aria maestosa e corporatura svelta e ben costruita, intonavano le sue lodi. La porta del convento formicolava di carrozze da mattina a sera. Le più belle e le più nobili dame di Madrid confessavano al priore le loro segrete scappatelle. Gli occhi del frate lussurioso ne divoravano le bellezze. Se le sue penitenti avessero consultato quegli interpreti, Ambrosio non avrebbe avuto bisogno di altro mezzo per esprimere i suoi desideri. Per sua disgrazia, le belle dame erano così fortemente persuase della sua castità che la possibilità che egli albergasse pensieri sconvenienti mai una volta penetrò nella loro fantasia. Era un fatto ben noto che il clima caldo ha non poca influenza sul temperamento delle donne spagnole, ma anche le più libere avrebbero ritenuto impresa più facile ispirare passione nella statua marmorea di San Francesco che non nel cuore freddo e rigido dell'immacolato Ambrosio. Da parte sua, il frate era scarsamente istruito nelle depravazioni del mondo. Non sospettava che solo poche tra le sue penitenti avrebbero rifiutato le sue profferte. Pure, anche se fosse stato meglio informato, il pericolo derivante da un tale tentativo gli avrebbe suggellato le labbra nel silenzio. Ambrosio sapeva che sarebbe stato difficile che una donna mantenesse il segreto su una nuova così strana e importante come la debolezza del frate, e giungeva perfino a tremare al sospetto che Matilda lo tradisse. Ansioso di conservare una reputazione che gli era infinitamente cara, vide tutto il rischio di affidarla nelle mani di qualche femmina frivola e vana, e siccome le bellezze di Madrid gli sommovevano i sensi senza toccargli il cuore, se le dimenticava non appena lontane dalla sua vista. Il pericolo di essere scoperto, la paura di vedersi respinto, la perdita della reputazione, tutte queste considerazioni gli consigliavano di soffocare i propri desideri, e sebbene egli ne provasse la più perfetta indifferenza, era costretto a limitare le espansioni alla persona di Matilda. Un mattino l'afflusso delle penitenti era maggiore del solito. Ambrosio dovette intrattenersi nel confessionale fino a tardi. Finalmente la folla fu accontentata ed egli si preparava a lasciare la cappella quando entrarono due donne che gli si accostarono con umiltà. Rialzatosi il velo sulla testa, la più giovane delle due lo supplicò di volerla ascoltare per qualche minuto. La sua voce melodiosa, quella voce che nessun uomo aveva mai ascoltato senza provare interesse, catturò immediatamente l'attenzione di Ambrosio. Si fermò. La postulante appariva prostrata dall'affanno, aveva le guance pallide, gli occhi velati di lacrime e i capelli che le ricadevano disordinatamente sul petto e sul viso. Pure le sue sembianze erano così soavi, così innocenti, così celestiali da incantare un cuore meno suscettibile di quello che palpitava nel petto del monaco. Con una dolcezza dei modi più marcata del consueto, l'esortò a parlare e con un'emozione che si faceva ogni momento più intensa, l'udì esporre quanto segue. «Reverendo padre, vedete qui un'infelice minacciata dalla perdita della sua più cara, forse la sua unica amica. Mia madre, la mia ottima madre, è a letto ammalata. Un malore improvviso e spaventoso l'ha colta la notte scorsa e ha fatto progressi tanto rapidi che i medici disperano di salvarla. Il soccorso degli uomini è impotente. Non mi rimane che implorare la misericordia del cielo. Padre, tutta Madrid risuona di elogi per la vostra pietà e virtù. Degnatevi di ricordarvi di mia madre nelle vostre preghiere. Forse indurranno l'onnipotente a risparmiarla e, se così sarà, mi impegno a illuminare la cappella di San Francesco ogni giovedì per tre mesi». «Dunque», pensò il monaco, «ecco che abbiamo qui un secondo Vincenzio della Ronda. L'avventura di Rosario è cominciata così». E in cuor suo si augurò che anche questa avesse il medesimo epilogo. Aderì alla richiesta. La postulante lo ringraziò mostrando tutti i segni della gratitudine e continuò in questo modo. «Ho un altro favore da chiedere. Siamo nuove a Madrid. Mia madre ha bisogno di un confessore e non sa a chi rivolgersi. Sappiamo che voi non abbandonate mai il monastero e, purtroppo, la mia povera madre non può recarsi fin qua. Se volete avere la bontà, reverendo padre, di fare il nome di una persona adatta, le cui consolazioni sagge e pie possano alleviare i patimenti di mia madre sul letto di morte, farete un favore imperituro a cuori non ingrati». Il frate accedette anche alla seconda richiesta, a quale si sarebbe ricusato, implorato da centi tanto incantevoli. La giovane era così interessante, la sua voce così dolce, così armoniosa. In le lacrime le si addicevano e il dolore sembrava conferire nuovo lustro alle sue bellezze. Le promise di mandarle un confessore per quella sera stessa e le chiese di lasciargli l'indirizzo. La sua compagna gli dette una carta sulla quale era scritto l'indirizzo e poi si ritirò assieme alla bella postulante che, prima di allontanarsi, pronunciò mille benedizioni a elogio della bontà del priore. Gli occhi di Ambrosio la seguirono fin fuori della cappella. Solo dopo che fu sparita esaminò il biglietto su cui lesse le seguenti parole. Donna Elvira d'Alfa, strada di San Iago, quarta porta dopo il palazzo dal Bornos. La postulante altri non era che Antonia e Leonella la sua compagna. Quest'ultima aveva consentito, non senza muovere difficoltà, ad accompagnare la nipote in convento. Ambrosio le aveva ispirato un tale sgomento che tremava al solo vederlo. I suoi timori le avevano tolto perfino la naturale loquacità e in presenza del priore non pronunciò una sola sillaba. Il frate si ritirò nella sua cella, dove l'immagine di Antonia continuò a incalzarlo. Sentì che migliaia di emozioni nuove gli sbocciavano in petto e tremò a indagarne la causa. Erano del tutto diverse da quelle che gli aveva ispirato Matilda quando la donna gli aveva svelato per la prima volta il suo sesso e il suo affetto. Ambrosio non provava il pungolo della lussuria. Nessun voluttuoso desiderio gli tumultuava nell'animo. Né un'immagine ardente gli dipingeva quegli incanti che la modestia aveva celato ai suoi occhi. Al contrario, provava un sentimento misto di tenerezza, ammirazione e rispetto. Una malinconia deliziosamente tenera gli pervarse l'animo e non l'avrebbe scambiata per il più vivido trasporto di gioia. La compagnia delle persone ora lo disgustava. Esultava nella solitudine che gli permetteva di abbandonarsi completamente alle proprie visionarie fantasie. I suoi pensieri erano tutti malinconia, gentilezza e calma e il mondo intero, in tutta la sua vastità, non gli presentava altro oggetto che Antonia. Mentre Ambrosio passeggiava disordinatamente su e giù per la sua cella, pensava «Non la potrò avere mai. Non può essere mia in matrimonio. Sedurre una tale innocenza, usare della fiducia che ripone in me per operare la sua rovina, o sarebbe uno dei delitti più neri? No, non temere, bella fanciulla. La tua virtù non corre pericoli da parte mia. Neppure per tutte le ricchezze delle indie vorrei che il tuo petto gentile conoscesse le torture del rimorso». Si mise a ripercorrere furiosamente la sua cella. Poi, soffermatosi, lo sguardo gli cadde sul ritratto della Madonna, un tempo amata. Lo strappò con indignazione dalla parete, lo scagliò per terra e lo gettò via da sé con un piede. «Prostituta!» Disgraziata Matilda. Il suo amante aveva dimenticato che solo per amore di lui ella aveva rinunciato alla virtù e che l'unico motivo che egli avesse per disprezzarla era l'amore di lei troppo grande. Ambrosio si gettò su una sedia accanto al tavolo. Scorse il biglietto con l'indirizzo di Elvira, lo prese e gli ritornò alla mente la promessa fatta a proposito di un confessore. Trascorse qualche minuto in esitazione, ma il potere che Antonia aveva su di lui era già troppo decisivo per consentirgli di resistere a lungo all'idea che lo aveva colpito. Decise di essere egli stesso il confessore. Poteva uscire inosservato dal convento senza difficoltà. Ascondendo la testa nel cappuccio, sperava di passare per le strade senza essere riconosciuto. Prendendo precauzioni del genere e raccomandando segretezza alla famiglia di Elvira, non dubitava di poter tenere Madrid all'oscuro del fatto che egli aveva rotto il voto di non vedere mai l'esterno delle mura del convento. L'unica persona di cui temeva la vigilanza era Matilda, ma informandola in refettorio che egli sarebbe stato trattenuto in cella per l'intera giornata, pensava di poter mettersi al sicuro dalla sua insonne gelosia. Di conseguenza, all'ora in cui gli spagnoli fanno la siesta, Ambrosio si avventurò a lasciare l'abbazia attraverso una porta privata di cui possedeva la chiave. Si era abbassato il cappuccio sul viso, le strade erano quasi totalmente spopolate per il caldo. Il frate incontrò poche persone, trovò la strada di San Iago e arrivò senza incidenti alla porta di Donna Elvira. Suonò, gli fu aperto e venne immediatamente ammesso al piano superiore. Fu a questo punto che incorse nel maggior pericolo di venire scoperto. Se Leonella fosse stata a casa, lo avrebbe riconosciuto senz'altro. La sua natura comunicativa non le avrebbe dato requie finché non avesse informato tutta Madrid che Ambrosio aveva messo piede fuori del convento per andare a trovare sua sorella. La fortuna si stè il frate. Tornando a casa, Leonella aveva trovato una lettera nella quale la si informava della recente morte di un cugino, il quale aveva lasciato i pochi beni in suo possesso da spartirsi tra lei ed Elvira. Per assicurarsi il lascito, Leonella era stata costretta a partire per Cordova senza perdere un momento. Pur con tutte le sue manie, aveva un cuore caldo e affezionato e si sentiva maldisposta ad abbandonare la sorella in una situazione così pericolosa. Ma Elvira aveva insistito perché intraprendesse il viaggio, rendendosi conto che nella misera posizione della figlia un aumento del patrimonio, anche se irrisorio, non era cosa da trascurarsi. Leonella partì dunque per Madrid, sinceramente addolorata sapendo della malattia della sorella e spendendo qualche sospiro al ricordo dell'amabile ma incostante Don Cristobal. Era fermamente convinta di aver fatto breccia nel suo cuore, ma non avendo ricevute sue notizie, immaginò che disgustato dall'umiltà delle sue origini e sapendo che all'infuori del matrimonio non aveva niente da sperare da un simile dragone di virtù come Leonella professava di essere, egli avesse rinunciato a farle la corte. Oppure che essendo di natura capricciosa e mutevole, il ricordo delle sue bellezze fosse stato cancellato dal cuore del condè per opera di una qualche beltà novella. Qualunque fosse la causa che aveva cagionato quella perdita, Leonella la deplorava amaramente. Si sforzava in vano, come assicurava a tutti quelli che erano abbastanza gentili da ascoltarla, di strapparsi l'immagine di un cuore eccessivamente sensibile. Affettava l'aria di una vergine malata d'amore, portandola al più ridicolo degli estremi. Inalzava lamentosi sospiri, camminava a braccia concerte, declamando lunghi soliloqui, e i suoi discorsi generalmente si avviavano sull'argomento di giovani abbandonate e morte di crepacuore. I suoi fiammeggianti boccoli erano sempre ornati di una ghirlanda di salice. Ogni sera la si poteva vedere errare lungo le sponde di un ruscello al chiaro di luna. Si dichiarava grande ammiratrice di rivi mormoranti e di usignoli. Di solitari luoghi e boschetti al tramonto amati dalla pallida passione. Questo era lo stato in cui si trovava Leonella quando fu costretta a lasciare Madrid. Elvira aveva perso la pazienza con tutte queste smanie e si sforzava di persuaderla ad agire come una donna di buonsenso. Il suo consiglio era gettato al vento. Leonella le confermò nel partire che niente le avrebbe fatto dimenticare il perfido Don Cristobal. In questo fortunatamente si sbagliava. Un onesto giovane di Cordova, garzone di farmacia, scoprì che il piccolo patrimonio della donna sarebbe stato sufficiente a consentirgli di metter su una decorosa botteguccia per conto suo. A seguito di tali riflessioni si dichiarò suo ammiratore. Leonella non era d'animo inflessibile. L'ardore dei sospiri del giovane le molcì il cuore e accondiscese ben presto a fare di lui il più felice degli uomini. Scrisse alla sorella per informarla del suo ammiratore, ma per ragioni che saranno spiegate più tardi Elvira non rispose mai alla lettera. Ambrosio fu condotto nella camera antistante a quella dove riposava Elvira. La domestica che lo aveva fatto entrare lo lasciò per andare ad annunciare il suo arrivo alla padrona. Antonia, che fino a quel momento era stata al capezzale della madre, corse immediatamente da lui. «Perdonatemi padre», disse andandogli incontro, quando al riconoscerlo si fermò di colpo e mandò un'esclamazione di gioia. «È possibile!» proseguì. «Gli occhi non mi ingannano! Il valente Ambrosio ha calpestato la sua risoluzione per alleviare i tormenti della migliore delle donne! Che piacere recherà questa visita a mia madre! Non voglio ritardare di un momento il conforto che le impartiranno la vostra saggezza e la vostra pietà!» Così dicendo, aprì la porta della camera, presentò alla madre il distinto visitatore e, collocata a una poltrona accanto al letto, si ritirò in un'altra stanza. Elvira provò grande piacere a quella visita. L'opinione generale l'aveva colmata di attesa, ma trovò la realtà di gran lunga superiore. Ambrosio, dotato per natura nell'arte di piacere, la sfruttò al massimo nella sua conversazione con la madre di Antonia. calmò ogni suo timore e dissipò ogni dubbio con eloquenza persuasiva. La fece riflettere sulla misericordia infinita del suo giudice, spogliò la morte di tutte le sue frecce e di tutti i suoi terrori e le insegnò a contemplare a mente calma l'abisso dell'eternità sull'orlo del quale in quel momento si trovava. Elvira si fece attenta e gioiosa. Ascoltando le sue esortazioni, fiducia e conforto le si insinuarono gradatamente nel petto. A lui svelò senza esitazione affanni e timori. Questi ultimi, riguardanti la vita futura, egli aveva già acquietato e allontanò ora i primi. Elvira tremava per Antonia. Non aveva nessuno alle cui cure affidarla, tranne il marchese dell'Assisternas e la sorella Leonella. La protezione dell'uno era incerta e quanto all'altra, sebbene amante della nipote, era talmente vana e sconsiderata da renderla poco adatta alla tutela di una fanciulla così giovane e inesperta del mondo. Non appena il frate apprese la ragione dei suoi timori, l'esortò a tranquillizzarsi. Non dubitava, infatti, di poter trovare per Antonia un sicuro asilo nella casa di una delle sue penitenti, la Marchesa di Villafranca, una dama di provata virtù, nota per i suoi severi principi e larga caritatevolezza. Se per caso avesse dovuto privarla di quella risorsa, si impegnava a procurare ad Antonia l'ingresso in qualche buon convento in qualità di pensionante, che Elvira aveva dichiarato essere poco amica della vita monastica e il frate fu abbastanza franco o abbastanza compiacente da concederle che la sua disapprovazione non era infondata. Queste prove dell'interessamento che sentiva per lei conquistarono il cuore di Elvira. Nel ringraziarlo usò tutte le espressioni che il sentimento di gratitudine poteva ispirare e affermò che ora poteva rassegnarsi tranquillamente alla tomba. Ambrosio si alzò per congedarsi, promise di tornare il giorno seguente alla medesima ora, ma chiese che le sue visite fossero tenute segrete. «Non avrei piacere», disse, «che si risappia del mio venir meno a una regola impostami dalla necessità. Se non avessi formulato la risoluzione di non lasciare mai il convento, tranne che in circostanze urgenti come questa che mi ha condotto qui da lei, sarei chiamato di frequente per circostanze insignificanti. Il tempo che ora spendo al capezzale dell'ammalato, a confessare il penitente in agonia o a sgombrare il passaggio dalle tribolazioni all'eternità, sarebbe occupato dai curiosi, gli oziosi e i malati immaginari». Elvira elogiò ugualmente la sua prudenza e la sua compassione e promise di celare con ogni cura l'onore di quelle visite. Il fratele impartì quindi la benedizione e si ritirò dalla camera. In quell'antistante si incontrò con Antonia e non seppe rifiutarsi il piacere di trascorrere qualche momento in sua compagnia. La ingiunse di sentirsi confortata perché la madre appariva composta e serena ed egli sperava che forse si potesse ristabilire. Si informò di chi fosse il medico curante e promise di mandare il medico del convento, uno dei più abili di Madrid, perché la visitasse. Si lanciò quindi a fare gli elogi di Elvira, ne esaltò la purezza e la forza d'animo e disse che ella gli aveva ispirato la massima stima e riverenza. Il cuore innocente di Antonia si gonfiò di gratitudine, la gioia le danzò negli occhi dove brillava una lacrima. La speranza che egli le dette sulla guarigione della madre, il vivo interessamento che sembrava provare per lei e i termini lusinghieri con cui ne parlava, aggiunti alla sua fama di uomo virtuoso e di ingegno solido e all'impressione che le aveva fatto con la eloquenza, confermarono l'impressione favorevole che fin dalla sua prima apparizione aveva ispirato ad Antonia. La fanciulla rispose con qualche titubanza ma senza impaccio. Non ebbe timore a confidargli tutte le sue piccole pene, le piccole ansie e timori e lo ringraziò della sua bontà con tutto il calore sincero che i favori accendono in un cuore giovane e innocente. Ambrosio alla fine fu costretto a strapparsi da quella conversazione che per lui aveva anche troppi incanti. Ripeté ad Antonia il proprio desiderio che nulla trapelasse da quelle sue visite e la fanciulla promise. Ambrosio uscì quindi di casa mentre la sua incantatrice si affrettò a recarsi dalla madre ignorando il malanno causato dalla sua bellezza. Antonia era ansiosa di sapere l'opinione di Elvira sull'uomo che aveva lodato con tanto entusiasmo e fu felice di scoprire che era altrettanto favorevole se non addirittura superiore alla propria. Anche prima che si mettesse a parlare, disse Elvira, ero già disposta in suo favore. Il fervore delle sue esortazioni, la dignità delle sue maniere e la solidità dei suoi ragionamenti erano tutt'altro che tali da indurmi ad alterare la mia opinione. Mi ha colpito particolarmente la bellezza e la sonorità della sua voce ma di sicuro Antonia l'avevo sentita prima di ora. Mi suonava del tutto familiare all'orecchio. Ho conosciuto il superiore in un'epoca precedente oppure la sua voce ha una straordinaria rassomiglianza con quella di qualcun altro che ho ascoltato sovente. Certe inflessioni mi hanno toccato nel più profondo del cuore e mi hanno fatto provare impressioni singolare che in vano mi sforzo di spiegare. Carissima madre, essa ha prodotto lo stesso effetto su di me, eppure certamente nessuna di noi due l'aveva mai ascoltata prima di venire a Madrid. Ma dimmi Antonia, per quale ragione è impossibile che io abbia già visto il superiore? Perché da quando è entrato in convento non ha mai messo piede fuori dalle mura. Mi diceva ora che non conoscendo le vie ha avuto qualche difficoltà a trovare la strada di San Iago per quanto vicinissima al monastero. Sarà così e tuttavia potrebbe darsi che io l'avessi visto prima che entrasse in convento. Per uscirne era pur necessario che vi fosse entrato. Vergine benedetta, quel che dici è verissimo, ma non potrebbe essere nato in convento? Elvira sorrise. Non mi sembra molto probabile. Aspetta, aspetta, adesso mi ricordo della storia. Ancora bambino fu affidato alle cure del convento. Il popolino dice che era caduto dal cielo e inviato in dono ai cappuccini della Madonna. Un gesto molto gentile da parte sua. E allora Antonia è caduto dal cielo? Deve aver fatto un bel capitombolo. Molta gente non presta fede a questa storia e credo mia cara madre di doverti mettere tra i non credenti. In realtà, come la nostra padrona di casa ha raccontato a mia zia, l'idea più diffusa è che essendo i suoi genitori poveri e non potendo mantenerlo, lo abbiano abbandonato neonato sulla soglia del convento. L'ex superiore, mosso di carità, lo allevò in monastero ed egli dimostrò di essere un modello di virtù e di erudizione, e non so di che cos'altro ancora. Di conseguenza fu ricevuto prima come frate e poi elevato a superiore. Comunque, qualunque delle due versioni sia la vera, entrambe concordano sul fatto che quando i monaci lo ricevettero sotto la loro protezione non parlava ancora, perciò non puoi aver udito la sua voce prima che entrasse in monastero, perché a quell'epoca non sapeva parlare. Parola mia, Antonia, i tuoi ragionamenti sono molto calzanti, le tue conclusioni infallibili, non sospettavo fossi tanto logica. Ah, tu ti burli di me, ma tanto meglio. Mi dà gioia vederti di buon umore, e poi mi sembra che tu sia tranquilla e a tuo agio, e spero che non avrai più altre crisi. Oh, io ero sicura che la visita del padre superiore ti avrebbe fatto bene. Mi ha fatto bene davvero, bambina mia. Ha tranquillizzato il mio spirito su certe cose che mi tenevano in agitazione, e già sento gli effetti benefici della sua attenzione. Gli occhi mi si appesantiscono, credo che potrò riposare un po'. Tira le tende, Antonia mia, ma se non mi dovessi svegliare prima di mezzanotte, non rimanere alzata, te lo impongo. Antonia promise di ubbidire, e avendo ricevuto la sua benedizione, tirò le cortine del letto. Poi si sedette in silenzio al suo telaio di ricamo, e passò le ore a fabbricare castelli in aria. Si sentiva rallegrata dal palese miglioramento di Elvira, e la fantasia le presentava visioni piacevoli e gaie. In questi suoi sogni, Ambrosio non aveva una parte trascurabile, ma per ogni idea che dedicava al frate, inconsciamente ne consacrava due a Lorenzo. Il tempo trascorse in tal modo finché dal vicino campanile della cattedrale dei Cappuccini, la campana annunciò la mezzanotte. Ricordando l'ingiunzione materna, Antonia ubbidì non senza qualche riluttanza. Socchiuse piano piano le cortine del letto. Elvira era immersa in un sopore tranquillo e profondo. I colori rifiorenti della salute le brillavano sulle guance. Un sorriso annunciava sogni piacevoli, e mentre Antonia si chinava su di lei, immaginò di sentir pronunciare il proprio nome. Baciò dolcemente la madre sulla fronte e si ritirò nella sua camera.